Migranti, i cadaveri di due neonati su un barcone a largo di Lampedusa. Reati ambientali, controlli dei carabinieri, scattano due denunce nel Nisseno. Caltanissetta, riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza su Gela. Maltempo, la Regione dichiara lo stato di crisi, il Presidente Renato Schifani, così si velocizza la macchina degli interventi. Ben trovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura, una nuova tragedia del mare a largo di Lampedusa, su un barcone, ritrovati i cadaveri di due neonati. Il servizio. C'erano anche le salme di due bambini di circa un mese, fra i migranti soccorsi dalla motovedetta della Guardia Costiera a largo di Lampedusa. I piccoli sono morti durante la traversata, cominciata alle 4 di domenica, dalla Tunisia verso l'Italia. I neonati sono morti perché erano sottopeso. Secondo gli stessi genitori, infatti, i bambini erano in cura in Tunisia proprio perché terribilmente sottopeso. Probabilmente quest'ultimi speravano che in Italia i piccoli sarebbero stati aiutati e salvati con apposite cure. Ed è per questa ragione che mamma e papà sono partiti lo stesso, ma i due gemellini non sono riusciti purtroppo ad arrivare a Lampedusa. Il decesso, secondo quanto è stato ricostruito dagli stessi genitori e dagli altri migranti stipati sul barcone, è avvenuto alle 3 della scorsa notte. Le salme dei due gemellini di un mese, originari della Guinea, sono state ritrovate sopra un barcone di 6 metri, partito dalla Tunisia, a bordo del quale c'erano altre 58 persone, di cui 28 uomini, 17 donne e 13 minori. È l'ennesima tragedia del mare in pochi giorni, dopo i quattro cadavere di migranti recuperati ieri, quelli di due bambini di poco più di un anno, mortuzionati a causa dell'incendio sviluppatosi sul barchino sul quale viaggiavano, e di altri due tunisini recuperati morti nelle settimane passate. Reati ambientali, controlli a tappeto dei carabinieri nel Nisseno, due denunce. Controlli a tappeto dei carabinieri in tutta la provincia nissena, con la scoperta di quattro discariche abusive tra Caltanissetta, Bonpensiere, Delia e Serra di Falco. Accertamenti che sono anche costati a due imprenditori la denuncia per l'accusa di gestione di rifiuti non autorizzata, oltre ai sequestri di diverse aree, disposti dal GIP di Caltanissetta su richiesta della procura. Ad essere denunciati dai militari dell'arma, un imprenditore edile di Bonpensiere è il titolare di un'azienda di Delia. Nel primo caso, quello di Bonpensiere, i carabinieri hanno rinvenuto nella zona dove sorge l'impresa cumuli di rifiuti originati da attività di demolizione edile ed è scattato il sequestro di un'area di circa 2.500 metri, oltre alla denuncia per l'imprenditore. Il secondo caso ha interessato un imprenditore di Delia, appunto denunciato a sua volta. I carabinieri hanno sequestrato un'area di circa 1.700 metri quadrati, all'interno della quale sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti speciali pericolosi, tra cui rifiuti domestici, imballaggi e contenitori di fitofarmaci per uso agricolo-culturale. Per quanto riguarda il resto dei controlli, a Caltanissette è stata riscontrata la presenza di rifiuti abbandonati in maniera indiscriminata, con il rischio di danni ambientali, a Gesso Lungo, nei pressi del cimitero Angeli e a Santa Barbara. La prima discarica abusiva è stata individuata all'interno di un'area di 3.500 metri quadrati incontrata a Gesso Lungo, la seconda in un'area di 1.800 metri quadrati nelle vicinanze del cimitero Angeli. Gli investigatori in questi casi hanno trovato cumuli di rifiuti speciali pericolosi, tra cui rifiuti riconducibili ed attività di demolizione edilizia e rifiuti urbani. L'ultimo controllo ha riguardato un'area di 10.000 metri quadrati di terreno adibito a discarica e ne sono stati delimitati 1.200 a Santa Barbara, trasmesso in questo caso anche l'avviso al sindaco di ottemperare allo sgombero e alla pulizia dell'area. Infine, a Sera di Falco è stata delimitata un'area di circa 500 metri quadrati adiacente alla provinciale 41, sulla quale sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti speciali pericolosi, tra cui rifiuti riconducibili ad attività di demolizione edilizia e rifiuti urbani. Caltanissetta, riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dopo le sparatorie verificate sia Gela sabato scorso. I particolari? Si è tenuta in prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica pianificata dopo gli episodi di Gela nel pomeriggio di sabato. All'appuntamento, presieduto dal prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, hanno partecipato il procuratore della Repubblica di Gela, Fernando Asaro, il procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia, Santi Roberto Condorelli, i vertici delle forze dell'Ordine, il capocentro della direzione investigativa antimafia e il sindaco di Gela. Nel corso della riunione, dopo aver dato atto che sono in itinere attenti approfondimenti investigativi volti a individuare gli autori dei recenti eventi delittuosi, si legge in una nota, si è proceduto ad un'analisi congiunta e dettagliata delle misure di prevenzione a carattere generale e dell'attività di controllo sul territorio operata dalle forze dell'Ordine, in esito alla quale il prefetto ha disposto un ulteriore potenziamento dei dispositivi in atto con l'intensificazione di servizi ad alto impatto. Inoltre, il prefetto di Caltanissetta ha richiamato l'attenzione del primo cittadino gelese sulla necessità di completare rapidamente l'installazione del sistema di videosorveglianza quale indispensabile strumento di osservazione per accrescere il livello di sicurezza sul territorio. Infine, allo scopo di rafforzare le azioni di carattere preventivo sullo stesso territorio gelese, il prefetto ha invitato il sindaco ad avviare ogni utile iniziativa progettuale volta alla diffusione della legalità, sensibilizzando la cittadinanza a collaborare con le forze dell'Ordine e a segnalare situazioni sospette o l'eventuale commissione di fatti delittuosi, così da favorire la tempestività degli interventi. Maltempo? La Regione dichiara lo stato di crisi. Il presidente Renato Schifani mira a velocizzare la macchina degli interventi. La Regione siciliana ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per i danni provocati dal maltempo a settembre e ottobre in numerose zone dell'isola. Un prevedimento che, come ha spiegato il presidente della Regione Renato Schifani, mira a velocizzare le procedure burocratiche per attivare eventuali interventi di messa in sicurezza. Numerosi comuni di tutta la Sicilia interessati. Per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta, l'unico centro in cui verranno svolti eventuali interventi è quello di Niscemi. Una decina invece i comuni sia della provincia di Trapani che di quella di Agrigento che necessitano di particolari interventi, visto che si tratta delle zone più colpite dalle piogge che si sono abbattute sulla Sicilia tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Una situazione anomala, come ha sottolineato il capo della protezione civile della Presidenza della Regione, Salvo Cogina, con valori di pioggia che hanno superato i 100 mm e che hanno finito per avere forti ripercussioni anche sulle infrastrutture. Infrastrutture che, va detto, in alcune zone palesano problemi strutturali da anni. La speranza dei cittadini è che vengano messi in atto interventi di manutenzione e anche di realizzazione di nuove ed efficienti strutture. L'inverno d'altronde è alle porte. Andiamo a vedere le origini riesine del nuovo ministro Eugenia Roccella. Nella squadra dei ministri del governo Meloni c'è Eugenia Maria Roccella, attuale ministra delle pari opportunità, famiglia e natalità. 68 anni, nata a Bologna, trascorse l'infanzia Ariesi, figlia di uno dei fondatori del partito radicale, Franco Roccella, e della pittrice femminista Vandarelli, che raggiunse a Roma una volta in età scolare. Leader del movimento di liberazione della donna, dove entrò a soli 18 anni da portavoce di molte battaglie femministe per l'aborto, contro la violenza sulle donne, per la modifica del diritto di famiglia, per le pare opportunità che nel 1975 scrisse, aborto, facciamolo da noi. Nel 79 si candidò alla Camera dei Deputati, non fu eletta, poi abbandonò i radicali e la politica, per poi riprendere il percorso passando anni dopo all'area cattolica del PDL, abbracciando posizioni diametralmente opposte a quelle iniziali. Oggi giornalista e ricercatrice scientifica all'Università La Sapienza, già editorialista del quotidiano Avvenire, ha collaborato per Il Foglio, il giornale, occupandosi di problematiche relativa alla bioetica. Deputata PDL, sottosegretaria al welfare nel 2008 e alla salute nel 2009 durante il governo Berlusconi 4. Così mentre il padre, Franco Rocella, fu tra i promotori della legge 194 sull'aborto, l'attuale ministra è di idee diametralmente opposte, dichiarandosi anche contro la pilola RU486 e le unioni civili, la procreazione assistita e contro il piano LGBT+, del governo Draghi, in una delle ultime riunioni, approvato per tutelare lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Eletta nelle ultime elezioni nelle liste di Fratelli d'Italia, oggi è ministra del governo Meloni. All'Istituto Musicale Bellini una selezione per reclutare nuovi assistenti amministrativi Il 21 novembre scadrà il termine di presentazione delle domande per partecipare al bando dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini. Tramite decreto presidenziale infatti è stata indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di donne e al profilo professionale di assistente a Re Seconda. Tra i requisiti richiesti l'età non inferiore ai 18 anni e il diploma di maturità, le domande potranno essere inviate tramite PEC personale del candidato o consegne a mano presso l'ufficio di ragioneria di Corso Umberto I numero 84, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, esclusi i festivi. Si prevedono due prove, una scritta e un orale e se dovessero pervenire più di 250 candidature anche una prova preselettiva. Al termine delle prove verrà stilata poi la graduatoria. Sulla base dei posti vacanti o disponibili o anche di necessità temporanee si procederà alla stipula di un contratto a tempo determinato con l'istituto, per il quale nel frattempo si sta quasi completando il percorso di statalizzazione. Il decreto è stato firmato dal ministro Messa pochi giorni prima che andasse via dal ministero, così come peraltro aveva promesso. In questo momento è a registrazione alla Corte dei Conti, per cui attendiamo chiaramente per dare l'ufficialità e comunicarlo anche alle istituzioni del territorio che arrivi bollato dalla Corte dei Conti. Il ministero già di fatto da tempo ci considera statizzati, quindi ci ha autorizzato nelle mole del completamento del procedimento a effettuare tutte le procedure assunzionali per il personale ATA, soprattutto per la nostra istituzione che ne era veramente carente. In particolare queste tre risorse che saranno inquadrate nell'ambito del contratto collettivo nazionale lavoro AFAM, area seconda, saranno impegnate nella terza missione e nella internazionalizzazione dell'istituto, nonché nei servizi finanziari e amministrativi che necessitano chiaramente di personale e di risorse adeguate. Intanto si pensa anche all'integrazione di ulteriore personale e nuove selezioni in futuro. Stiamo provvedendo ad adottare gli atti deliberativi per l'istituzione delle cattedre, quindi in funzione di quelle che sono anche le esigenze di offerta formativa all'istituzione, alle quali potranno accedere tutti gli aventi diritto che hanno già prestato servizio per le nostre istituzioni, sia personale docente che non docente. Quindi questo è personale integrativo, cioè che accede oltre al personale che abbiamo in forza, quello delle nuove assunzioni e chiaramente rimpinguerà una pianta organica che necessita in funzione di un istituto in espansione di nuova forza lavoro qualificata. In futuro, in particolare nell'area direttiva e probabilmente anche a brevissima scadenza ci saranno anche quelli di direttore amministrativo e di direttore finanziario. Ristrutturazione di vigneti accolte 11 domande dalla regione per imprenditori di Caltanissetta. Sono in tutto 558 le domande ritenute ammissibili ai fini dei contributi previsti dal bando CM Vino destinato agli investimenti in cantina per la riconversione dei vigneti nell'ambito della campagna 2022-2023. Il Dipartimento dell'Agricoltura regionale ha pubblicato la graduatoria provvisoria sul portale istituzionale della regione Sicilia. Il bando ha una dotazione finanziaria di 13 milioni di euro per sostenere diverse tipologie di intervento come operazioni di estirpazione e reimpianto, sovrennesti, realizzazione di impianti di irrigazione, meccanizzazione, modifica della forma di allevamento e sostituzione delle spalliere di sostegno. Con questa iniziativa la regione si pone l'obiettivo di aumentare la competitività delle produzioni vitivinicole siciliane adeguandole alle esigenze di mercato. Il sostegno ai produttori è finalizzato a finanziare anche fino al 100% le spese sostenute per la ristrutturazione e la riconversione delle strutture aziendali. Le domande ammesse sono in totale 558, di cui 342 provengono dalla provincia di Trapani, 88 da quella di Agrigento, 74 da Palermo, 13 da Catania, 11 da Caltanissetta, 9 da Ragusa, 6 da Siracusa, 3 da Messina, mentre 12 aziende ammesse a finanziamento hanno i vigneti in più province. Vediamo gli appuntamenti per ricordare il giudice Rosario Livatino, di servizio. Sono tanti gli appuntamenti a Canicattì a partire dal prossimo 29 ottobre il ricordo del giudice Rosario Livatino, elevato a Beato da Papa Francesco il 9 maggio dello scorso anno. Gli estimatori del Beato Livatino parteciperanno in maniera privata alle funzioni religiose già previste in città. In coincidenza della solennità liturgica del 29 ottobre, invece, l'associazione Amici del giudice Rosario Angelo Livatino garantirà l'apertura della cappella Livatino Corbo, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. L'apertura della stessa cappella, dove riposano le spoglie del Beato Livatino, sarà ripetuta anche nelle giornate di tutti i Santi e della commemorazione dei defunti, rispettando gli stessi orari. Lunedì 31 ottobre, vigila di tutti i Santi, l'associazione parteciperà alle 21 nella Chiesa San Domenico alla veglia di preghiera, mentre martedì 1 novembre alle 18.30 ci sarà l'omaggio Canoro Facciamoci Santi, realizzato dai giovani della parrocchia San Francesco di Canicattì. L'associazione, intanto, parteciperà venerdì 28 ottobre alle 19 al corteo contro la microcriminalità in città, promosso dal movimento giovanile di Innoviamo Canicattì, in collaborazione con l'associazionismo locale. L'attività dell'associazione, infine, proseguirà anche con la presentazione in giro per la Sicilia dell'ultimo libro di Roberto Mistretta, Rosario Livatino, l'uomo, il giudice e il credente, e con le altre attività istituzionali, sempre rivolta a diffondere la conoscenza della figura del Beato Livatino e dei valori di giustizia e carità. L'ufficio diocesano del Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, organizza un convegno per sabato 29 ottobre alle 17 nel Salone del Seminario Vescovile di Caltanissetta. Attenzioni puntate su diversi interrogativi. Qual è la dinamica intrinseca dell'abuso? Perché avviene l'abuso sui minori e sulle persone vulnerabili? Quali sono le ferite che danneggiano gravemente la vittima dell'abuso? Interverranno sull'argomento Don Franco Salvatore, psicoterapeuta, coordinatore del Servizio regionale tutela dei minori e persone vulnerabili, che terrà la relazione sul tema prima che l'abuso accada. Maria Bianca Giunta, neuropsichiatra infantile che parlerà delle ferite degli abusi e Emanuele Ricifari, questore di Caltanissetta, che esporrà la situazione della piaga degli abusi nel territorio di Caltanissetta. La festa dei morti è una ricorrenza molto sentita, risalita al X secolo. Viene celebrata il 2 novembre per commemorare i defundi. Si narra che anticamente nella notte tra l'1 e il 2 novembre i defundi visitassero i cari ancora in vita, portando i bambini dei doni. Oggi questi doni vengono acquistati dai genitori e dai parenti nelle tradizionali fiere che si svolgono in molte parti della Sicilia. Qui vi si trovano bangarelle di giocattoli e oggetti vari da donare ai bambini, che vengono poi nascosti in casa e trovati da quest'ultimi al mattino presto con una sorta di caccia al tesoro. Oltre a giocattoli di ogni sorta, esiste l'usanza di regalare scarpe nuove, talvolta piene di dolcetti, come i particolari biscotti tipici di questa festa. I crozzi imotto, le ossa di morto, i rametti, i taralli, ciambelle rivestite di glassa zuccherata, i nucatoli e i tatù bianchi e marroni, i primi velati di zucchero, i secondi di polvere di cacao. Frutta secca e cioccolatini accompagnano un cannistro. Un cesto ricolmo di primizie di stagione, frutta secca, altri dolciumi come la frutta di martorana e i pupiri zucchero, statuette di zucchero dipinderi traendi figure tradizionali come i paladini. È un momento, diciamo, importante di religiosità e di rispetto verso i nostri cari, quindi da portare sempre avanti e non fare morire. La tradizione deve essere condivisa da tutti, perché certo i numeri magari non sono più, una volta si faceva molto più produzione, ma io dico che non dobbiamo fare mai morire questi ricordi, anche nelle proporzioni più piccole, ma però dobbiamo avere sempre la presenza sul tavolo. Ogni anno facciamo queste preparazioni per i defundi, che sono la frutta martorana, poi facciamo anche osse di morti, chiamati i moscardini, poi facciamo dei taralle, che siamo molti richiesti in questo periodo, per ammetti di miele e con queste pulpe di zucchero ogni anno sono tutte a massima richieste, quella tradizionale per i cari defundi. Arancino o arancina, la disfida di Caltanissetta all'insegna del divertimento. Si sfideranno a suon di panature sfrigolanti, tra olio caldo pronto per la frittura e il profumo dei condimenti sfiziosi, che daranno una scusa in più per assaggiare e gustare una quantità maggiore di uno dei prodotti tipici della cucina siciliana, l'arancina o arancino. Sarà infatti proprio la diatriba, tra le due denominazioni utilizzate in Sicilia, la protagonista della disfida di Caltanissetta, evento organizzato dall'associazione mototuristica siracusana Moto Perpetuo Community Moto. Nella cittadina nissena infatti, domenica 30 ottobre, i bikers siciliani si incontreranno per un appuntamento con la gastronomia all'insegna del divertimento. Spesso accade quando ci incontriamo con gli amici palermitani e quando gli amici catanesi si incontrano quelli palermitani che spesso ci si prende un po' in giro per le nostre specificità. Quale di queste specificità fa più ridere? Credo personalmente, ed è da lì che nasce l'idea, che proprio una di queste specificità che fa più ridere è questa arancina che addirittura viene fatta in forma completamente diversa, rotonda perché devi ricordare l'arancia nella Sicilia occidentale, appunta perché devi ricordare l'Etera, nella Sicilia orientale e anche a dire il vero nel messinese. Quindi a questo punto partiamo da lì, prendiamoci in giro valorizzando quello che noi sappiamo fare, che secondo me è la via giusta per dare un messaggio sempre migliore di questa terra che va valorizzata e valorizzarla parte da noi. Quale sarà l'arancino ufficiale dei biker? Ho detto arancina? Oh, non vorrei che fosse l'Apsos, magari un arancino il più buono della Sicilia, il più buono dei biker? Ecco, facciamo questa gara assolutamente non competitiva, ridiamoci su, questa è la cosa più importante. E la cosa più importante è il senso di tutta questa manifestazione che sembra essere ecologicamente, un senso di antitesi fra due realtà, ma invece è una sintesi gastronomica della nostra Sicilia e del nostro street food. Un'iniziativa che si inserisce tra le attività dell'associazione. Che è un'associazione sportiva dilettantistica fatta da motociclisti, riconosciuta da alcuni proprio nell'ambito del mototurismo, quindi noi facciamo moltissimo mototurismo. Mototurismo che decliniamo un po' in tutta l'Italia, ma non solo, anche nei Balcani e nel Nord Africa. Quindi facciamo veramente moltissimi viaggi, sempre alla ricerca di chicche di tipo tendenzialmente culturale. E in particolar modo di quei tesori di cui l'Italia è piena e anche l'estero è pieno, che spesso e volentieri vengono un po' tralasciati. Quindi, ecco, ci piace un po' andare anche alla ricerca della Sicilia segreta, della Calabria segreta e un po' di tutti questi posti che sono fuori dai normali circuiti turistici. Sono 26 le aziende siciliane che potranno partecipare sotto l'eggida e con il sostegno della regione siciliana alla fiera Big Five di Dubai, che si terrà dal 5 all'8 dicembre prossimi. Il Dipartimento regionale delle attività produttive ha approvato la graduatoria con le piccole e medie imprese del settore, sistema casa ammesse e non ammesse. Erano state 31 le istanze presentate per la rassegna emiratina, 26 quelle ammesse, 4 le escluse, mentre una ha rinunciato. Tra quelle che potranno partecipare, 4 sono della provincia di Palermo, 4 della provincia di Agrigento, 5 del Trapanese, 2 della provincia di Siracusa, 6 della provincia di Catania, 2 del Messinese, 2 del Disseno e 1 della provincia di Ragusa. La regione si propone così di dare nuove opportunità di promozione a realtà siciliane operanti in tutti i settori produttivi, in un momento di ripartenza dell'economia a livello globale, dopo gli anni difficili della pandemia. Vallelunga, cuore in forma, dallo stile di vita alla prevenzione cardiovascolare. Molto partecipato l'evento, cuore in forma, dallo stile di vita alla prevenzione cardiovascolare realizzata a Vallelunga Pratameno lo scorso sabato pomeriggio. L'evento, organizzato dalla Fondazione Nissena Vita e Salute, che vede responsabile l'infermiere del soccorso di Caltanissetta in Zagro con il patrocinio dell'amministrazione comunale, è stato arricchito dagli interventi dei dottori Calogero Geraci, dirigente medico di cardiologia dell'ospedale di Caltanissetta, Roberta Sardo, dirigente medico rianimatore della centrale operativa di Caltanissetta, Giuseppe Misuraca, direttore generale della centrale operativa Baggino-Caltanissetta-N ed Agrigendo, ed Ignazio Lacagnina, responsabile della formazione Croce Rossa sezione di Mussomeli. Questo è servito a sensibilizzare la popolazione circa la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Una prevenzione efficace ha bisogno di informazioni corrette. L'obiettivo dell'incontro è stato duplice. Da un lato sono stati analizzati i cosiddetti fattori di rischio che mettono a repentaglio la salute del cuore, assunzione di alcol, droghe e fumo, ma anche stile di vita sedentario. Dall'altro, in che modo si può intervenire per salvaguardarla? Le buone abitudini possono infatti incidere positivamente sui fattori di rischio. Sono 69 le scuole siciliane che riceveranno un contributo per progetti sulla legalità nello sport e sull'educazione civica e i valori costituzionali per l'anno scolastico 2022-2023. Il Dipartimento dell'Istruzione della Regione Siciliana ha pubblicato le graduatorie delle scuole di ogni ordine e grado ammesse alla selezione del bando indetto lo scorso 25 agosto, che metteva a disposizione risorse al valere sul bilancio della Regione. La somma complessiva impegnata è di quasi 138 mila euro e alle scuole sarà erogato un importo non superiore ai 2.000 euro per progetto. I progetti ammessi dovranno concludersi entro il 15 luglio 2023. Mercoledì sera alle 21 la nuova trasmissione Pedi Pedi di Roberto Gallà su TFN, regia di Gianluca Loguasto. Mercoledì sera alle 21 su TFN, 30 minuti Pedi Pedi a cura di Roberto Gallà con la regia di Gianluca Loguasto. Luoghi, storie, personaggi di Caltanissetta in primo piano, di cui vi proponiamo una breve anticipazione della puntata che andrà in onda. Amici di Pedi Pedi, ciao a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Pedi Pedi. È il programma che vi fa conoscere i luoghi, le storie e i personaggi della nostra città. Per questa edizione però non sarò da solo. Alla camera numero 1 abbiamo Gianluca, ecco, e alla camera, insomma, camera, la cameretta, diciamo, 2, ecco io che cercherò di fare qualche ripresa, diciamo così, live action. Dove vi portiamo oggi? Allora, un attimino perché ci aspetta sicuramente perché ho detto che stavamo per arrivare. Vediamo, vediamo, vediamo chi è. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ciao, ciao. Ciao, Rob. Allora, Lorenzo Ciulla, allora, intanto tiè, sistemati il microfono. Qua siamo... Non mi aiutarono, non è che tu sei professionista. No, e dai, va bene, dai, il microfono si mette così. Dai così. Allora, tu tieni questo che inquadri a Gianluca. In quadro di Gianluca, ecco, nel frattempo fai anche un po' da operatore. Beh, come vedete noi siamo molto, siamo molto, molto casalinghi, ecco. Siamo, siamo per la spontaneità. Ok, non basta perché se lo puoi. Questo lo metto qua. Va bene. Benissimo. Allora, Lorenzo Ciulla, dove siamo? Allora, siamo nel quartiere Angeli di Caltanissetta, che è, diciamo, la... Stare pedi pedi in siciliano vuol dire essere sempre in giro, ed è proprio questo il titolo della trasmissione di Roberto Gellà, che già dalla prima edizione ha conquistato il pubblico e lo ha fatto incuriosire da appassionare di puntata in puntata. Ha tutti quei racconti, frutto delle interviste in auto fatte durante un giro per Caltanissetta, così l'auto diventa un salotto in cui a camma accesa gli ospiti si raccontano senza filtri. Bene, passiamo allo sport. Il direttore sportivo della Nissa, Massimo Ferraro, lascia la società. Sentiamo i particolari. Si vivono momenti di altissima tensione in casa Nissa, dove dopo le dimissioni del tecnico settineri avvenute un mese fa, oggi si aggiungono quelle del direttore tecnico Massimo Ferraro. Ancora nessuna nota in merito dalla società biancoscudata. Queste le dichiarazioni di Ferraro. Considerata la perdurante diversità di idee ed opinioni, molto distante, tra il sottoscritto e l'area tecnica, è considerata che la spaccatura venutasi a creare hanno portato da un lato all'allontanamento di alcuni giocatori e dall'altro all'impossibilità di farne entrare altri necessari per il raggiungimento di quello che era l'obiettivo iniziale dettatomi dalla società una salvezza tranquilla, mi sento in dovere di rassegnare le dimissioni dal ruolo assegnatomi augurando a tutti i soci, tesserati e tifosi che ne fanno parte un grande in bocca al lupo. Bene, per questa edizione è tutto. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio al meteo e alle notizie di pubblica utilità. Appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Un saluto ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo nella giornata di mercoledì. L'alta pressione continuerà a garantire condizioni di stabilità su tutta Italia, anzi tenderà ad innalzarsi verso l'Europa centrale favorendo quindi una maggiore stabilità anche sulle regioni del nord dove comunque sono attesi dei banchi di nebbia, delle nuvole basse che andranno poi diradandosi con l'andare del giorno. Questo campo anticicronico è comunque alimentato da calde correnti provenienti dal nord Africa che infatti porterà le temperature a raggiungere anche picchi di 30 gradi sulle isole maggiori ma valori attorno ai 26-28 gradi sono attesi anche sui versanti terrenici soprattutto sul basso adriatico e temperature sopra la norma anche al nord qui con clima comunque più umido. Infatti questo lo notiamo dalla grafica che ci mostra in Italia le prese con il sole ma un po' di nuvolosità di tipo basso insisterà sulle pianure del nord. Si tratterà di foschie, qualche banco di nebbia e qui le temperature si manterranno un po' più contenute ma sempre sopra le medie del periodo. Per tutti i dettagli consultate l'app di Tribi Meteo. Secondo. Il fuori. Secondo. Quattro.